Due pannelli raffiguranti Biancaneve e Settenani e Peter Pan sono stati donati al reparto di pediatria dell'ospedale Barone Romeo di Patti. Li hanno realizzati gli studenti delle classi Quinta B e C del Liceo Artistico Indirizzo Arti Figurative e dell'Istituto di Istruzione Superiore Lucio Piccolo di Capodorlando. L'attività iniziata lo scorso anno è stata curata dai docenti Anna Paola Cataldo, Vittorio Perna e Grazia Zeus. E proprio a loro e al dirigente scolastico si sono rivolti i ragazzi al termine di questa suggestiva esperienza che servirà ad allietare il soggiorno dei piccoli pazienti dell'ospedale. Un omaggio che la nostra scuola attraverso l'associazione Remy fa all'ospedale di Barone Romeo di Patti. E la seconda esperienza, già l'anno scorso c'è stato, quest'anno i ragazzi e i docenti del Liceo Artistico di Capodorlando hanno lavorato per i bambini. È stato un progetto suddiviso in due fasi, una fase iniziale di progettazione legata allo studio della fiaba, all'ambientazione, la collocazione dei personaggi e lo studio cromatico. E una seconda fase invece proprio di realizzazione del pannello con la tecnica dei colori acrilici. Abbiamo voluto continuare questo progetto appunto per dare opportunità ai bambini di sentirsi a casa e creare un momento d'allegria in ospedale perché solitamente sono per altri motivi in ospedale. Soddisfatti per questi lavori che faranno bella presenza in pediatria è il dirigente responsabile del reparto di pediatria e dell'unità di terapia intensiva neonatale Caterina Cacace e il presidente dell'associazione Remy, Elio Coletta. La dimensione della pediatria deve essere questa, dimensione di bambino. Quindi noi ringraziamo immensamente questi ragazzi che hanno lavorato nell'interesse dei nostri bambini per rendere il loro percorso in ospedale un pochino più accettabile, un pochino più lieto. Davvero grati a questi ragazzi. Noi contiamo già di vederci il prossimo anno perché ci sarà un ulteriore seguito e noi ci siamo così, anche noi presentati con un cadeau, delle targhe ricordo da poter loro mettere negli istituti che rappresentano. Grazie.